Si è registrato un po' di timore ieri 9 settembre 2018 a Roma per la precisione in via Panattoni vicino al famoso parco della Insugherata. Perché? Vi starete giustamente chiedendo. Perché una donna a bordo di un'automobile sarebbe rimasta bloccata da un branco di cinghiali. La denuncia sarebbe arrivata su Facebook pubblicando un video in cui si vede l'intera scena in questione. Questo branco di cinghiali che rimane proprio in via Panattoni impedendo di fatto alla donna di poter marciare, di poter proseguire nel suo percorso romano. I cinghiali a Roma ormai sono diventati un simbolo, secondo la mia opinione personale, sono diventato ormai un vero e proprio vessillo, una vera e propria autorità, tra virgolette animale, di questa città, la città eterna per eccellenza. Grazie, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi e un caro saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.